Per l'estate 2022 su tutti e sette i comuni della costa Terramana torneranno a sventolare le bandiere blu. Questo anche grazie al lavoro portato avanti dal comune di Albadriatica che dopo anni sarà di nuovo incluso tra i comuni costieri a ricevere l'importante vessillo. L'ufficialità si avrà il prossimo 10 maggio quando la FEF assegnerà a Roma la bandiera blu per l'anno 2022, ma l'invito a partecipare alla cerimonia è arrivato nei giorni scorsi al comune di Albadriatica. Sulla riconferma delle altre sei sorelle della costa Martinsicuro, Tortoreto, Giulianova, Roseto, Pineto e Silvi non ci sono dubbi. Un'ottima notizia per gli operatori albenzi che con il ripascimento in atto si appresta ad un'estate ricca di presenze. Siamo contenti dall'indiscrezione che abbiamo ricevuto, sembra che siamo stati titolati di questa bandiera blu che è tanto che aspettiamo, più di 8-9 anni per cui siamo felici di poter avvalerci di questo vessillo che ad Albadriatica mancava in maniera particolare. Sono iniziati finalmente i lavori di ripascimento sulla costa Nord, questo permetterà anche agli operatori di essere pronti per quest'estate? Questa è una nota molto positiva, dopo anni di tribolazione fortunatamente abbiamo visto iniziare quest'opera che tutti quanti aspettavamo. Aveva creato delle divisioni ma oggi penso che quando guardiamo quello che stanno facendo gli operatori penso che sia una cosa veramente importante per Albadriatica, per il territorio, per gli operatori turistici, per l'amministrazione. Un ringraziamento particolare alla regione che si è impegnata così tanto e questi sono i risultati. Speriamo adesso che, come hanno detto nel cronoprogramma, si arrivi al raggiungimento dell'opera finale in poco tempo in maniera tale da poter dare la possibilità agli operatori di allestire le proprie spiagge e di ospitare turisti che tanto hanno voglia di tornare ad Albadriatica. Il problema grosso è la carenza di posti di ombreggio perché con la forte erosione che avevamo tutta la richiesta si riversava verso sud. Speriamo quest'anno invece con i colleghi che hanno gli stabilimenti, che sono stati interessati dall'opera possano contribuire sia per loro che per l'ospitalità tutta di dare più posti a disposizione.